L'idea è quella di non farli sembrare il loro manager, ma di dare attraverso questi confronti più forti una linea anche giovane, aggressiva e che rispecchia la loro personalità di sportività. L'idea è quella di non farli sembrare il loro manager, ma di dare attraverso questi confronti più forti una linea anche giovane, aggressiva e che rispecchia la loro personalità di sportività. Questo è il modo che noi vediamo i giocatori oggi, sono moderni, sono ragazzi, sono un po' più rilassati, con il giocatore, con il giocatore, con i giocatori, con i giocatori e poi andiamo a fare la casualità, per farlo, per farlo, per farlo, per farlo.